La cultura della non violenza è oggi di fronte a una sfida, dimostrare di avere la capacità di difendere veramente gli aggrediti sostenendo una diplomazia che poggi non su equilibri di potere, ma sulle ragioni della fraternità. È questa la diplomazia che serve, Papa Francesco si è messo a disposizione, Zelensky ha detto che accoglierebbe la sua mediazione e perché non potrebbe accoglierla anche Putin. Questa piazza è la grande scuola della diplomazia della pace di cui è maestro il poverello di Assisi, vi chiedo un minuto di silenzio orante, in cui ciascuno di noi si faccia carico intimamente delle sofferenze di tanti fratelli che stanno morendo e soffrendo in questa guerra e in tutte le guerre del mondo. Questa piazza di pace diventi almeno idealmente il luogo ospitale di una diplomazia che metta subito fine a questa sciagurata guerra e ponga le premesse di una pace giusta e duratura in Europa e nel mondo. Grazie, popolo della pace. È il messaggio eletto dal vescovo Domenico Sorrentino in occasione della Marcia della Pace e della Fraternità Perugia Assisi, indetta in versione straordinaria per fermare l'invasione russa dell'Ucraina, crimine contro l'umanità e l'escalation bellica. In migliaia hanno partecipato alla Marcia Perugia Assisi, benedetta dal messaggio del Papa, alla recita del Regina Celi in piazza San Pietro. Saluto e ringrazio i partecipanti alla Marcia straordinaria Perugia Assisi per la pace e la fraternità che si svolge oggi, come puri quanti vi hanno aderito, dando vita ad analoghe manifestazioni in altre città d'Italia. Deve crescere un grande movimento di cittadini per la pace e che si unisca a Papa Francesco, l'auspicio degli organizzatori guidati dall'appello del Santo Padre, fermatevi, la guerra è una follia. A precedere la manifestazione, sabato 23, una veglia di preghiera nella Basilica Inferiore di San Francesco, guidata dal Cardinale Michael Cerni. Nel pomeriggio di sabato, alla vigilia della Marcia e prima della veglia, nella Sala della Pace del Sacro Convento si è svolto l'incontro La Via della Pace. Ospiti, tra gli altri, il Cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, il Custode del Sacro Convento, Fra Marco Moroni, il Vescovo Diocesano, Monsignor Domenico Sorrentino, il Direttore di Avvenire, Marco Tarquinio e Cecilia Strada, di Reschio.